Oggi è il 21 febbraio 2021, giornata portale, portale energetico, sincronico, estremamente potente. Ma ciò che voglio comunicarvi quest'oggi con questo mio video è la bellezza dei colori della nostra madre terra. Sì, i colori sono molto più vivi, tutto è molto più vivo, tutto vibra in quarta e quinta dimensione già, stiamo ascendendo, stiamo evolvendo e l'Eden è già qui, il paradiso terrestre è già qui, la nuova terra è già qui, parallela alla nostra, invisibile forse ai nostri occhi ma sempre più densa, incominciamo a percepirla e noi stiamo cambiando. Sentite il cambiamento, vedete i colori in maniera diversa, molto più intensi, molto più accesi, come nell'astrale. Avete delle percezioni completamente diverse? Ecco quello che sta succedendo e oggi approfittando dell'energia del portale, in questo posto magico voglio mandarvi la forza della luce, il raggio laser, la luce diamantina che viene dal cosmo e si specchia in quest'acqua meravigliosa, sembra di stare su un altro pianeta. Assorbite questi colori, questa luce, questa meraviglia e concentratevi all'energia del portale. Oggi tutto è possibile, vibrate ad altissima frequenza e percepirete la nuova terra, la stella gemella.